Rush finale o quasi idem che sono ancora tra i non allineati nella corsa alle amministrative di giugno sembrano vicini a definire il da farsi. Quella democratica è una via che ha preso un abbrivio iniziale nel contesto della gora politica per poi propendere verso uno stop, una fermata quasi obbligata per i dirigenti idem. La gora che si è stretta intorno all'ex vicesindaco Terenziano Di Stefano, candidato per la coalizione non ha entusiasmato tutti i dirigenti cittadini del Partito Democratico. La porta comunque non è chiusa e anzi le interlocuzioni con lo stesso Di Stefano e con pezzi importanti e la sua coalizione ad iniziare dai pentastellati del Movimento 5 Stelle ci sono ancora. Nella fine settimana i democratici cercheranno di approcciare la questione della lista e dentro metà della prossima invece dovrebbero partorire l'esito finale. Cercheranno di dare risposte precise. Il sentiero di un ritorno nella gora ora alleanza arretta dal candidato a sindaco Di Stefano non è sbarrato. Chiaramente non è dato per out neppure il canale che condurrebbe ad un appoggio ad un dirigente storico del partito, Miguel Donegani. L'ex parlamentare Ars fino ad oggi mantiene la barra e pare pronto a presentarsi alle urne come candidato a primo cittadino. I democratici soprattutto in questa fase non sono rimasti fermi. La grande coalizione del tutto alternativa al centrodestra dei partiti, al patto largo che può ufficializzare la corsa dell'ingegnere Grazia Cosentino, pare non debba considerarsi una pagina del passato. Tutt'altro gli esponenti del PD hanno parlato con gli autonomisti dell'MPA e con altri riferimenti di area moderata e progressista. Potrebbe essere il campo per mettere le fondamenta di una candidatura di garanzia ragionata prevalentemente sulla scia di un percorso diverso da quello dei governi ombra dell'SRR denunciato a livello locale sia dal leader MPA Raffaele Lombardo sia dal sindaco Lucio Greco. Un'alleanza con base DEM e MPA non è l'opzione più semplice da sostanziare ma al momento nessuno pare escludere un esito finale di questo tipo. Il commissario Giuseppe Arancio e i dirigenti locali dovranno chiudere il cerchio prima possibile.